Ah no, ho fatto... Stavo a dire... Oggi a cena... Ditemi se è normale, come cosa... Oggi a cena, vado a cena... Stavo parlando con mio padre, lui guarda le mie live ormai... Quasi... Avrà quasi il watch time di... Non lo so, di un modellatore... Mio padre mi fa... Simo, ma stavo pensando... Grazie a voi... Simo, ma stavo pensando... Ma... Quando tu dici... Dici sempre di essere uno showman... Mi dico, ok... Cosa? Eh, mi chiedo... Non ti è mai venuta in mente una battuta che potresti fare? Dico... Sparo cazzate in continuazione... Magari mi sono perso una battuta particolare... Lui fa... Dai, prova a pensarci... Che cos'è che potresti dire? Sono uno showman... Non so... Che cazzo potrei dire? Dai, prova a pensarci... Un gioco di parole... Un gioco di parole? Che cazzo di gioco di parole devo fare? Eh, posso dire... Sono uno showman... Sono uno scemon... E si è messo a riso di gusto... Posso dirlo che ha riso di gusto? Ha proprio riso di gusto... Io così... E lui proprio se le ris... Cioè, ha proprio fatto una risata gustosa, eh... Cioè, ma io vi giuro... Ho proprio... Assistito... Alla... Alla sua degustazione di questa battuta... Se l'hai proprio gustata... Cioè, avete presente... Quando c'è io a me capita di andare in giro... E la gente magari si gusta la mia faccia, no? Perché la guarda e dice... Incredibile, no? Che sia vivo... E si gusta la mia faccia... Ecco, mio padre in quel momento si è proprio gustato... Si è fatto una degustazione... Proprio... Un aperitivo della... Della sua battuta si è fatto... Si è fatto una degustazione a buffet... E la sua battuta... Devo dirlo... Si è fatto proprio una degustazione... Oggi ci mangia! Vabbè, quindi... Insomma... È stato... È stato abbastanza divertente... Un po' imbarazzante quel momento, ma... Sono uno scemo... Un piccolo spam... Con qualche moat di scemon... Perché effettivamente sono uno scemon... Perle in diretta... Bellissimo sto profilo... Piccolissimo... Un po' imbarazzante quel momento... 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 Grazie a tutti.